A Lerici in questi giorni è di strettissima attualità il tema del trasporto pubblico. Sono allo studio delle soluzioni innovative per favorire soprattutto gli abitanti delle frazioni. Il trasporto pubblico a livello provinciale ha un momento anche di crisi. Quello ricevo come sindaco molte proteste dai cittadini. È importante comunque comprendere che il servizio è gestito dalla provincia e non dai singoli comuni. In ogni caso il comune di Lerici è attivo sia a segnalare i problemi ma anche a volerli risolvere. Quindi noi abbiamo già un servizio navetta messo a disposizione dei nostri cittadini. Della parte più amare, le frazioni di San Terenzo, di Lerici, le località di Bagnola, quindi la parte alta della provinciale, Pugliola. che hanno un servizio navetta gratuito che consente di raggiungere il centro di Lerici senza utilizzare il mezzo pubblico. Ora stiamo cercando di lavorare anche sul fronte, di portare a termine il lavoro sul fronte della frazione di Tellaro e della Serra dove c'è un trasporto pubblico che ha un servizio che è sufficientemente frequente e quindi su questo servizio vogliamo creare la possibilità per i cittadini di muoversi gratuitamente attraverso un abbonamento che verrà consegnato ad ogni cittadino residente nelle due frazioni per poter raggiungere dalle frazioni il centro di Lerici e quindi non spostare l'automobile ma soprattutto allenarsi a utilizzare il servizio pubblico perché questo è un fatto importante e quindi ci crediamo molto, tanto che il Comune di Lerici nel periodo estivo si fa carico anche di un servizio via mare che fa la spezia a San Terenzo, Lerici, Tellaro e viceversa e che è molto utile e che viene utilizzato anche dai cittadini per degli spostamenti ordinari con un prezzo sostenibile che insomma dà risposta importante, quindi una visione complessiva e si cerca con ATC di affrontare anche i problemi che ci sono del trasporto pubblico locale in generale che ripeto però fanno capo alla provincia e non al Comune ma la collaborazione vuole essere sempre quella attiva, fattiva e di sostegno quindi a tutti i nostri enti territoriali che oggi affrontano problemi complessi come ad esempio il fatto che non si trovano più autisti e quindi c'è questa carenza e insomma il problema non è da poco.